Quest'anno, in occasione della Quaresima, la Commissione Foraniale della Pastorale Giovanile ha pensato di proporre come iniziativa una sorta di peregrinazio crucis. È stata infatti realizzata una croce con il legno dei barconi che trasportavano i migranti approdati a Lampedusa. L'itinerario consisterà in cinque tappe, una per ogni zona della forania che comprende le parrocchie limitrofe, sarà caratterizzato principalmente da tre momenti, l'accoglienza, la durazione e il passaggio della croce alla parrocchia della tappa successiva. Ad animare ogni celebrazione saremo proprio noi giovani della nostra forania, si legge nel comunicato stampa ufficiale. Siamo chiamati a vivere la comunione all'interno della nostra realtà foraniale, accomunati tutti dallo stesso simbolo, la croce di Cristo. Essa è legno bagnato dalle onde del mare, da settimane di navigazione e anche dalla forza impietosa della morte. Le persone migranti sono poveri, disperati, che non hanno angeli che cantino per loro, facili da commiserare ma ancora più facili da dimenticare. Mai come in questo periodo tanto particolare ci siamo sentiti così vicini alla sofferenza di queste persone, avendo vissuto sulla nostra pelle il terrore di poter contrarre il Covid-19, di soffrire per la perdita di un nostro caro, un nostro amico, un nostro semplice conoscente. Come ha ricordato il Papa nel celebre discorso del 27 marzo in Piazza San Pietro, il messaggio che questa croce vuole portare a ognuno è che noi giovani siamo chiamati ad incarnare nella nostra vita. E' questo, essa è il segno che ci accomuna tutti e che deve spingerci a gridare al mondo che Cristo è risorto da quella croce e proprio noi giovani con la nostra testimonianza di fede. Ne siamo gli annunciatori.